Allora sono le quasi le 5 di mattina e stiamo andando a prendere il treno direzione Milano, ritiro Tesla Model X. Sono le 6 di mattina, cambio treno alla stazione Ancona e ho fatto. Siamo arrivati alla stazione di Milano e ci stanno volendo a prendere per andare al concessionario Tesla. Come è andato il viaggio? Bene, benissimo. Oggi c'è una bellissima giornata. Il treno era con un gelato, ma che funzionata. Qua al solito c'è un po' forse adesso al torno, però poi vi faccio scendere se vi trovo il tutto perfetto. Ecco c'è anche Federico. Ha raggiunto Federico, direttamente in concessionario Tesla. Siamo appena arrivati. Eccoci qui. Si legge Tesla? Sì. Ciao Fede. Buongiorno. 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 Il mio canale ti piace tantissimo Non fa bene, va bene Vedi che Riesce anche a stersare un pochino In base a questa Togli il dito E lei si ferma Vai papà, sposta la macchina Yeah Va da sola Che bomba Allora Davide come si sta dietro? Addio Ti piace questa macchina? Gigante Guarda Oh vedete? Stavo girando da sola Quanto cazzo sono british Non ammazzo mano sto giocando a cricket Mi dice Tony sei pazzesco Amore capoeira Che scelte in una piena Come in una favola No, no Perché lì non è un bianco È bello Però di solito le macchine tutte nere ce l'hai Ce l'hai avuta? Ti volo la Lexus Allora siamo a Bologna E siamo venuti a prendere la mia amica Abbiamo fatto la ricarica a Modena Siamo pronti per rivarci Rimani in piedi? Ecco Non tocco io Siediti Aspetta che arrivo Adesso puoi chiudere le portiere Praticamente tocchi l'ultimo tasso Esatto Magnifico Allora come ti sembra? Spaziale Io mi abito Allora 350 miliardi di watt Stanno scaricati dentro la macchina Guarda guarda lì Tutti i watt Senti ma Accelerazione come siamo messi? Senti ma Allora ecco Senti ma